carissimi amici e amiche anzitutto un santo tempo di Natale e una santa epifania ormai alle porte introdotta anche dal canto che ha preso tutto all'inizio della catechesi grande festa in cui celebreremo la manifestazione della natura divina di Gesù riconosciuta e accolta dagli uomini pagani diciamo subito che fanno funzionare il cervello perché la grande festa dell'epifania è proprio per quanto mi riguarda l'ho sempre concepita in questo modo ma nessuno me lo toglie dalla testa la festa di coloro che fanno funzionare il cervello il che è una cosa molto importante cioè che sono capaci di osservare con attenzione di farsi le giuste domande e trovare le giuste risposte che è un po' anche lo spirito di questo ciclo di catechesi dove stiamo seguendo innanzitutto il itinerario dei Santi Padri e mi permetto insomma volgiamo verso il termine della disamina patristica questa sera dovremmo fare quattro autori ulteriori ci sono un restante numero di pari successibili al grande Sant'Agostino sia dell'Oriente soprattutto dell'Oriente l'ultimo sarà un altro pezzo da 90 che è San Massimo il Confessore che credo che faremo la prossima volta perché per l'ampiezza del materiale a disposizione merita una puntata a parte dopodiché la disamina è finita della tradizione patristica però penso che questa è la dodicesima puntata quindi sono dodici puntate che stiamo andando a semplicemente scandagliare il pensiero dei padri attraverso le fonti quindi non attraverso le teorie e le ricostruzioni un primo punto della situazione penso che noi dobbiamo tenere presente una cosa per capire anche che cos'è la tradizione della Chiesa quando abbiamo visto diverse sfumature diverse differenze a volte anche sensibili però ci sono dei tratti fondamentalmente comuni sul tema che stiamo facendo uno su tutti è questo la vita matrimoniale intesa come coniugio carnale da cui nasce la vita non c'era nell'Eden è una conseguenza del peccato originale ed è proprio questa modalità di riproduzione che lo trasmette tra l'altro questo secondo punto come detto a suo tempo fa parte del magistero non discutibile diciamo così per i cattolici della Chiesa poi ci sono delle sfaccettature differenti d'accordo delle puntualizzazioni specifiche però allora perché dico questo? perché anche se a noi possono apparire strane oggi alcune asserzioni alcune considerazioni che fanno questi giganti dei primi secoli noi non possiamo ignorarle perché la tradizione tra l'altro con la T maiuscola quella che anche i contestatori moderni della tradizione comunque sempre riconosciuta è proprio questa cioè quella che si è formata nei primi secoli quindi quella con la T maiuscola e non possiamo cioè il fatto che noi certe cose oggi ci lasciano un pochino perplessi se non a volte addirittura forse anche sconvolti è un segno dei tempi ma non è una buona motivazione per fare spallucce o per ignorarli ignorarli anzi è un'occasione per resettare e mettere in discussione certe nostre formamentis per esempio tutto quanto il discorso fondamentale ecco sul valore sul primato della verginità che oggi cioè io non lo so anche tra quanti cattolici è in auge questo potrebbe essere una chicca una perla preziosa cioè fermo restante la bontà e la santità del matrimonio anche questo ma la verginità stessa abbiamo già visto è custodia della santità del matrimonio questo non dimentichiamolo il matrimonio post peccato originale il matrimonio post peccato originale è certamente voluto da Dio ma è voluto come matrimonio monogamico cioè nella testa di Dio nella volontà di Dio c'è la possibilità di conoscere una sola donna per un solo uomo quindi noi dobbiamo entrare in una forma mentis che la mentalità ordinaria dei figli di Dio è una mentalità virginale poi se ho come vocazione il matrimonio volentieri come dire rinuncerò alla virginità vedremo poi per adempiere la volontà stessa di Dio perché non ci sono altri modi oggi con cui nascono gli esseri umani nel mondo comunque sia andata d'accordo e continuerò comunque a conservare un grande un grande rispetto una grande venerazione sentiremo alcune cose questa sera per chi la virginità la vive come scelta cioè la virginità nella chiesa dovrebbe essere portata in pianta di mano mentre i vergini dovrebbero guardare con come dire con occhio bello d'accordo con occhio di benevolenza soprattutto le sante famiglie le sante famiglie dovrebbero guardare appunto con questo occhio compiacente coloro che conservano la virginità che anticipano la vita del cielo il matrimonio in due parole cioè è una realtà questo lo dice Gesù nel Vangelo circoscritta a questo mondo necessaria bella se santificata mentre la virginità è una realtà che anticipa sulla terra il paradiso perché in paradiso tutti quanti i vergini anche chi è sposato il paradiso sarà vergine non c'entra il connubio in cielo questo principalmente sono bene in testa quindi anche quando si fanno delle affermazioni si sentono dire anche il campo cattolico il piacere sessuale è una cosa buona creata da Dio io sinceramente proprio la sottoscrizione a questa cosa qui in coscienza con difficoltà perché se tu affermi una cosa del genere sia una cosa buona creata da Dio come mai che la Madonna questo non non l'ha mai conosciuto come mai che Gesù Cristo non l'ha mai conosciuto come mai che San Giovanni Evangelista non l'ha mai conosciuto come mai che io non l'ho mai cioè che i vergini e le vergini non l'hanno mai conosciuto e come mai che nella vita eterna non ci sarà quindi cioè noi dobbiamo regolarci un pochino nel senso che siamo tutti quanti volenti o nolenti debitori della mentalità post 68 ma la mentalità post 68 non è la mentalità cristiana cioè adesso a prescindere dal nostro discorso basta andare a leggere gli atti dei martiri leggere la storia del martirio di Santa Agata di Santa Lucia di Santa Agnese di Santa Cecilia cioè le sette vergini nominate dal canone romano una mi sembra che fosse Santa Agata adesso non vorrei confondere qualcuno cioè una la volevano violentare prima di ucciderla cosa molto frequente antichamente la volevano portare in un luogo turpe ma Dio l'ha resa pesante come un blocco monolitico non sono riusciti a smuoverla neanche di mezzo centimetro da dove stavo una ragazzina esile piccola piccola come era insomma gli energumeni che sono andati a prendere non sono riusciti a smuoverla cioè quindi comprendo lo stupore e anche la la perplessità che certe tematiche possano suscitare nell'uomo del 2022 d'accordo nell'uomo che ormai da più di 50 anni vive in periodo di libertinaggio sessuale e moltissima gente cioè io sono ormai da diversi anni sacerdote e sono parroco non mi è capitato raramente di imbattermi in coppie che pensano che la vita sessuale e matrimoniale sia una cosa normalissima cioè io dico ma tu il catechismo non si è mai stato non hai studiato 10 in 10 comandamenti sì ma sì però non c'è questo non è un peccato quindi va bene detto questo abbiamo fatto una introduzione più troppo ampia andiamo a vedere questi autori che non sono ascrivibili ad una scuola teologica particolare e che vanno in un arco di tempo abbastanza ampio quindi Eusebio di Cesarea che è più o meno più o meno contemporaneo di origine a San Massimo il Confessore che addirittura si situa nella seconda metà del settimo secolo addirittura dopo il pontificato del grande San Gregorio Magno quindi siamo molto avanzati nel tempo Eusebio di Cesarea un grande storico un personaggio molto molto noto nell'ambiente evidentemente ecclesiastico e degli studi ecclesiastici conosciuto proprio come il padre della storia ecclesiastica e lavorò e studiò nella biblioteca di Cesarea e fu vescovo di Cesarea dal 313 in poi lasciamo perdere le opere andiamo a vedere il commento al Salmo 50 al versetto 7 ormai quando sentiamo dire Salmo 50 al versetto 7 dobbiamo nel peccato che ho concepito mia madre quindi ormai dovrebbe essere per chi ha seguito il ciclo di catechesi abbastanza familiare scrive Eusebio ecco infatti nell'iniquità sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre queste frasi saranno simili a quelle che troviamo in Giobbe maledetto il giorno in cui nacqui e la notte in cui dissero ecco un maschio Giobbe 3,3 perché infatti era maledetto se non perché Giobbe fu concepito nelle iniquità seguire il peccato infatti era conseguire la maledizione con le stesse parole profetò Geremia dicendo maledetto il giorno stesso in cui sono stato partorito e la notte in cui mi concepì mia madre Geremia 20,14 sarebbe stata cosa beata se la prima donna non avesse trasgredito e non avesse prestato servizio alla generazione corruttibile attenzione a queste espressioni rimanendo nel paradiso simile agli angeli divini ma per invidio del diavolo la morte tratta nel mondo infatti la generazione attraverso il sangue e la carne prestava servizio alla morte a causa della durata della stirpe mortale per questo motivo il concepimento in qualche modo sottoposto alla morte era rifiutato dagli uomini beati allora che cosa vediamo brevemente da questo brano no? il rapporto di causa effetto tra peccato di origine e generazione attraverso l'unione fisica cioè ripetisce ripetisce uno dei temi universalmente tenuti anche perché biblicamente fondati ripeto la Bibbia parla della unione dell'uomo con la moglie al primo versetto del capitolo 4 dopo che nel capitolo 3 si era raccontato il peccato originale particolare che tutti notano che non può essere casuale e afferma che gli uomini beati cioè gli uomini prima della colpa d'origine sarebbero rimasti simili agli angeli nel paradiso quindi in una condizione quindi che evidentemente la condizione cotologica è uguale a quella escatologica questo è un altro tema abbastanza ricorrente siccome il paradiso come Gesù afferma in Luca 20 34-36 nella disputa con i Saducei non ci sono moglie e marito nel paradiso terrestre non ci sono moglie e marito c'è l'uomo e la donna con la U e con la D maiuscola sicuramente si amavano prima del peccato originale è certo Adamo quando la vede finalmente ecco osso della mia ossa carne della mia carne con aiuto simile a me da me è stata tratta ma come si amavano capite io credo che al termine di questo viaggio credo che saremo edificati anche un pochino sull'amore no? come si amavano Adamo ed Eva prima del peccato d'origine questo non non approfondisco ogni pari è una domanda che possiamo porci noi si amavano o non si amavano vivono come due stranei vivono come due mummie che ne so vivono come due non si sa bene cosa o si amavano e come? quindi c'è amore anche tra uomo e donna senza quella dimensione ci può essere questo vale pensiamo per esempio un discorso di questo genere quanto potrebbe aiutare quei rarissimi giovani fidanzati che ancora sono intenzionati ad osservare la castità cioè la castità non significa che io come dire tarpo le ali all'amore quindi ah non ci possiamo amare fino a quando non ci sposeremo chi l'ha detta questa cosa? chi è che ha detto questa stupilaggine? chi l'ha detta? e magari le coppie che ci hanno difficoltà come dire ad aprirsi in maniera molto molto ampia alla vita e quindi e scelgono di non trasgredire la legge di Dio e quindi magari di applicare periodi infecondi chi l'ha detto che durante un periodo infecondo devono rimanere come due statue evidentemente anche dovendosi estenere dagli atti coniugali in senso stretto se vogliono come dire fare attenzione in modo lecito a a controllare le nascite punto interrogativo capiamo anche le implicazioni di questo di questo discorso e questo nesso casuale afferma causale non casuale scusate quindi causale nesso di causa è affermato nei termini che la trasgressione dei progenitori ha dato inizio alla generazione attraverso il sangue e la carne attenzione ricordiamo che quel sangue e la carne nel mangiolo di San Giovanni c'è il plurale c'è ton aimaton i sangui quindi il sangue significa come si riteneva liquido seminale e componente diciamo così che liquido seminale veniva antichamente chiamato sangue bianco e materiale diciamo organico che allora non si sapeva neanche bene cosa fosse dalla donna però questo tipo di operazione ferma Eusebio presta servizio alla morte e la dimostrazione è che attraverso questo si trasmette appunto il peccato originale quindi da queste brevi considerazioni anche se Eusebio non approfondisce il tema cosa sarebbe stato eccetera eccetera ma si può affermare afferma l'autore io sono d'accordo con lui che Eusebio secondo Eusebio la generazione attraverso il sangue e la carne non rientra nell'originario progetto di Dio abbiamo poi Basilio di Ancira sacerdote morto martire intorno al 363 sotto l'imperatore Giuliano l'apostata anche di lui si analizza un solo brano che immediatamente leggo perché in questa sezione le fonti sono la cosa più importante tratto dal devere la virginità desintegritare i vergini già ora come gli angeli non prendono moglie né prendono mariti ma sono uguali agli angeli sia per la virtù dell'anima sia per l'incorruttibilità del corpo e poiché nostro signore volle che la virginità come seme di vita incorruttibile fosse mandata dalla terra al cielo volendo volendo già ora che i nostri corpi si esercitassero la bellezza dell'incorruttibilità attraverso l'incorruttibilità delle vergini è evidente da ciò che obbedendo in tutto alla legge li puriò solo il matrimonio bisognava infatti che egli generato incorrotto anche secondo la carne da una vergine incorrotta non sperimentasse neanche la corruzione connessa al matrimonio né che egli generato da una madre incorrotta fosse sottoposto alla corruzione del corpo o mediato il matrimonio né che fosse ministro della nostra incorruttibilità secondo natura uno nato per mezzo di nozze da uomini corrotti allora qui capiamo no per questo che ho fatto delle premesse un pochino lunghe l'incorruttibilità è connessa alla verginità perché la verginità non è soltanto un freggio diciamo una virtù dell'anima per essere vergine devi avere la forza di rinunciare ai piaceri veneri il che fa parte della virtù morale della castità esercitata nella forma della continenza e perpetua ma questo produce anche una incorruttibilità del corpo cioè il corpo non conosce il principio della corruzione a differenza del matrimonio argomento fondamentale che usa la concezione e la nascita virginale di Gesù e il fatto che Gesù stesso non si è sposato indirettamente attenzione pigliori i miei cari che anche l'ho già detto il fatto che Gesù non si è sposato non si può ridurre come alcuni che vorrebbero per esempio eliminare il celibato dei preti cattolici a un discorso funzionale se no se ti sposi dopo devi stare presso alla moglie e non ti trovi col cuore diviso quindi non hai tempo per dedicarti alla missione apostolica questo è certamente un aspetto che rientra nel celibato ma non è né l'unico né il principale non è questo il motivo non è questo il motivo ma è un'anticipazione attraverso la verginità sulla terra dell'incorruttibilità futura e come dire un richiamo al tempo stesso se tutto quello che stiamo leggendo è vero all'incorruttibilità delle origini quando Gesù quando Basilio dice che la verginità era stata mandata dalla terra al cielo l'autore lo interpreta dice si riferisce all'ascensione del Signore sì sicuramente lui sì forse a quei tempi l'assunzione della Madonna era un pochino era un pochino prematura ma anche la Madonna ha portato la verginità assoluta incontaminata in paradiso non soltanto Gesù anche se certamente l'autore non poteva intendere presumibilmente una cosa di questo genere no in ogni caso non era conveniente che il Cristo generato incorrotto sperimentasse la corruzione connessa al matrimonio quindi noi capiamo l'idea di fondo che attenzione questa è un'idea che si è trasmessa fino a un po' di tempo fa e che è stato proprio uno dei cavalli di battaglia della rivoluzione sessuale e di tutte quante le lotte e di tutti i discorsi fatti diciamo così per sdoganare il tabù sesso cioè la percezione che l'idea che nell'atto sessuale ci sia una sorta di una certa qual sorta di misteriosa ma reale contaminazione questo cioè è stato per millenni patrimonio comune nella Chiesa cattolica non per una settimana millenni e io ho proprio ripugnanza verso questo modo di pensare perché cioè vi dico vi racconto io sono una persona normale d'accordo come 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 tanti altri no posso anche dire quando ero giovane ragazzo non comprendevo bene tante cose tante dinamiche legate alla castità e mi facevo anche un sacco di domande e ho fatto anche tante domande ne parlavo con i sacerdoti non trovavo mai una spiegazione convincente perché c'era sempre questo timore come dire questo mettere le mani avanti di non passare anzitutto come sessuofobi però cioè si va bene questo qui ma alcune cose cioè rimangono così ti lasciano perplessi cioè io le argomentazioni che sentivo non mi convincevano beh niente io mi sono convinto bene solo su certe cose anche se per grazia di Dio ripeto io sono stato preservato da o ringrazio mi sono convinto crescendo un po' riflettendoci un po' e anche aiutato da qualche bella predica che andava a cogliere un pochino meglio il senso profondo queste cose cioè vi dico anche racconto un fatto personale io senti molti anni fa una predica venuta peraltro da un laico che sbeffeggiava e faceva eronia su un particolare io non avevo mai sentito una cosa di questo genere però se la raccontava era certamente molto più grande di me io ero un giovanotto all'epoca dice eh sulle camicie da notte delle nostre nonne c'era la scritta non so se non so chi l'ha mai sentita non lo fa per amor mio ma per dar dei figli a Dio e via 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 a ridere e a come dire e a sbeffeggiare questa cosa qui perché adesso era questa roba qui come la demonizzazione domani io quando sentivo queste cose tutti a ridere chiaramente no io già quando vedo che una cosa la fanno tutti in maniera accodandosi a me già questo mi urta io mi sono fatto alcune domande dico ma è possibile che per 1960 anni tutti quanti imbecilli cioè si sono fatti imporre la mentalità decadente la mentalità odolorista la mentalità oscurantista e ce ne dobbiamo liberare cioè io personalmente ho proprio una sorta di ma rifiuto ma non di fede cioè di pensare una cosa di questo genere proviamo un attimo a pensarci ma capiamo quale forma di superbia grossa che è cioè noi non possiamo dall'alto della nostra civiltà contemporanea dall'alto dei nostri iphone e che ne so e intelligenze artificiali sentirci i padri eterni in terra che sbeffeggiano e e deridono queste cose io ho sentito un vescovo raccontare non vi dico evidentemente chi che quando era lezione negli anni critici insomma del postconcilio ad una fior di facoltà pontificia romana che qui per ragioni di misericordia non faccio il nome quando si leggeva il De Virginità di Sant'Ambrogio che l'abbiamo letto noi il professore che lo leggeva si sbudellava dalle risate e ironizzava e ridicolizzava Sant'Ambrogio in pubblico e quel vescovo raccontò quando parlava di questa cosa io un bel giorno mi sono alzato sono andato davanti al professore e gli ho detto professore io non sono d'accordo con quello che lei sta dicendo ad alta voce davanti a tutti me ne sono andato e ha fatto bene cioè noi non possiamo capisco la difficoltà c'è una c'è uno step da fare c'è una conversione mentale da fare perché noi adesso queste cose le abbiamo completamente perse completamente perse ma possibile io sono sempre chiesto possibile che 1900 anni di idioti perché questo è e siamo intelligenti soltanto noi a me questo mi sembra molto strano mi sembra mi sembra molto strano quella gente che oggi si sveglia la mattina e vorrebbe cambiare il celibato dei preti per esempio se ne sta parlando in qualche area non voglio non voglio scendere oh perché noi adesso dall'alto del nostro del nostro ventunesimo secolo possiamo ma che fai noi dobbiamo metterci in ginocchio dinanzi appunto alla tradizione con la T maiuscola dice Vuta prima di fare un cambiamento devi stare molto cauto cioè devi stare attento devi studiare devi verificare devi vedere sentire comune devi vedere non ti puoi mettere a fare come dire le testa tua la chiesa non funziona così noi abbiamo un deposito un fide ed una tradizione corattima aiuscola che non si tocca nessuno può intervenire su queste cose qui meno che mai a cuor leggero sempre nello stesso questo brano c'è un altro passaggio che dice così come Adamo fu seme della vita presente attraverso il piacere delle nozze così bisognava che egli Cristo fosse seme del secolo futuro attraverso l'incorruttibilità della verginità affinché come abbiamo seguito quello che seminò la vita degli uomini sulla terra attraverso le nozze così saggiamente seguissimo il Signore che ha seminato il secolo futuro attraverso l'incorruttibilità virginale se tu esaminassi non superficialmente sia il paradiso sia la vita di Adamo in quel luogo troveresti che egli nel paradiso non ebbe bisogno di conoscere sua moglie qui c'è il conoscere biblico l'ho parlato tante volte non è il conoscere come noi conosciamo la definizione enciclopedica di un lessema conoscere conoscere significa prima che conobbero non conosco uomo quello che rispose la Madonna all'Arcangelo Gabriele non conosco uomo in quel senso perché San Giuseppe lo conosceva e come stavano già con mi fatto la proposta di fidanzamento ma non lo conosco in quel senso dopo la trasgressione la morte e l'esilo del paradiso allora conobbe la moglie affinché il rimanente della loro vita mortale fosse consolato dalla successione dei figli al contrario la vergine che segue colui che la conduce in paradiso già ora vive deliziosamente incorrotta colui nel paradiso fuggendo dalla maledizione che fu pronunciata fuori dal paradiso nei dolori partorirai figli e ciò che segue la nel paradiso non puoi unirti nel modo in cui eravamo con un beso amore né infatti poter farlo lui stesso nel paradiso ma dopo che fu carciato là fuori si unì con Eva quindi non c'è niente diciamo così che se non qualche piccolo particolare che viene aggiunto a quanto già già spiegato no è semplicemente un ribadire quanto già abbiamo visto e quindi certamente anche Basilio crede fermamente che l'unione fisica non faceva parte del progetto originario per la coppia ma è sopraggiunta in conseguenza del primo peccato un altro autore ancora è Gennadio di Costantinopoli qui arriviamo al quinto secolo Gennadio è morto a Costantinopoli nel 471 e era abbate di monastero e divenne patriarca di Costantinopoli nel 458 il brano di Gennadio è il commento alla Genesi 3,8 cito dell'albero della conoscenza del bene del mare non mangiate il giorno che ne mangiaste morireste di morte tra l'altro il testo ebraico dice proprio così c'è una costruzione del tutto particolare quindi morireste di morte è un'espressione molto molto particolare nel senso che c'è il verbo non mi ricordo se è il perfetto o l'imperfetto seguito poi dall'infinito che è una costruzione atipica che è un rafforzativo cioè noi morireste di morte cioè non lo so come potremmo renderla adesso non vorrei cioè proprio stare tranquilli che morite al cento per cento cioè non vazzardate a farlo cioè non è che forse morirete no è la fine sono quelle classiche espressioni che le lingue originali conoscerle ti aiutano a comprenderle qui traduce letteralmente morireste di morte che non è neanche la traduzione cioè morireste morire non dovrebbe tradurre ecco che non si può tradurre così in italiano quindi bisogna bisogna comprenderla questa cosa qui no guardate lo vado un attimo a riprendere perché c'è poco il testo davanti così non lo vuole essere espressione no ecco ecco allora in ebraico si trova kib kib yom akhol khar mimennu mot tammut mot è l'infinito assoluto del verbo mot che significa morire ma avete significa morte e tammut è l'imperfetto khal seconda persona maschile singolare quindi qualora tu mangiassi di esso morire morirai letteralmente ripeto un'espressione tipicamente ebraica quindi c'era una c'era un'allerta come dire allerta più che rossa dal nome dell'albero attenzione l'albero questo poi ci arriveremo l'albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare capite no che come si fa a parlare della della mela l'albero della conoscenza da attra in ebraico del bene tov e del male ra dal nome dell'albero il serpente comprese dunque come essere intelligente ciò che sarebbe accaduto e cioè che era conveniente essere fortificati partecipando di quel nutrimento questo infatti vuol dire l'apertura degli occhi avendo fortificato in loro stessi il naturale torpore accesero in loro stessi il desiderio del piacevole discorso matrimoniale la donna vide infatti dicono che l'albero era buono da mangiare e gradevole agli occhi per vedere così dunque secondo il mio pensiero e la mia opinione il serpente dal nome dell'albero seppe le cose da annunziare alla donna interessante lettura anche se singolare ingannò dunque da se stesso dicendo non morirete di morte perché poi il diavolo gli va a dire no no non morirete di morte quindi si dice ma guarda che è certo che moriremo no 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 ecco qui vado a prendere l'espressione è esattamente la stessa identica l'omot infinito assoluto temutun imperfetto stavolta seconda persona purale uguale mentendo sarete come dei diventereste come dio conoscendo bene il bene e il male vedete i padri come traducevano bene la traduzione della la nuova traduzione della 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 sia adeguata nel 74 c'è scritto diventereste come dio no no sarete non sareste c'è il verbo essere ma non è sareste sarete come dio conoscendo il bene e il male adesso anche questo dobbiamo pensare sarete come dio che significa essere come dio cos'è che dio fa e noi non facciamo cioè non abbiamo la capacità ordinaria di di fare no infatti infatti non divennero dei mangiando ma al contrario di questi conobbero immediatamente loro stessi la passione della carne mortale conobbero che per loro realmente era stabilita la sentenza di morte conobbero l'inclinazione per la successione alla generazione che veniva dalla loro natura a causa della stimolazione alla generazione dei figli quindi abbiamo già notato questa singolarità del fatto che lui pensa che dal nome dell'albero il serpente si è industriato e ha come dire poi ha architettato la tentazione dove voleva andare a parare con la tentazione no in ogni caso per Gennardio da questo testo che abbiamo letto l'unione sessuale è evidente che è stata causata esplicitamente dal peccato d'origine perché appena succede questo fatto si risveglia come vi spiega il naturale torpore e accresce in essi il desiderio del piacevole discorso matrimoniale o pover mangiato non si pronuncia evidentemente esplicitamente sulla questione se quest'unione facesse o non facesse parte del progetto di Dio per l'uomo anche se evidentemente in maniera indiretta si può lecitamente arguire e inferire l'ultimo autore che vediamo oggi è Procopio di Gaza breve presentazione come al solito stiamo nella seconda metà del quinto secolo quindi siamo ancora più avanti e morì nel 530 circa quindi siamo dopo Sant'Agostino ricordiamo che Sant'Agostino è morto nel 430 dopo dopo Cristo sì 354 430 dopo Cristo sì lui è uno dei maggiori rappresentanti della scuola cristiana di Gaza e un grande segeta di lui analizziamo due brani gli ultimi di oggi il primo dato dal commento alla Genesi Adam e Eva prima del peccato non avevano bisogno di vergognarsi ciò che invece fecero avendo peccato come soccorso per la verità del peccato come per l'utio del pudore arrossirono per le parti del corpo che servono a generare figli poiché il piacere che riguarda queste cose è il più acuto di tutti e Dio non ritenne che la relazione coniugale dovesse essere irrazionale come gli animali attenzione ma stabilì una legge per il pudore per questo pensarono di coprirsi le parti del corpo vergognose con le quali di figo avendo così esperienza del congiungimento coniugale ma avendo acquistato per loro stessi il pudore da Dio quindi sulla base del dato di fatto che il libro della Genesi afferma che prima del peccato Adam e Eva erano nudi senza averne vergogna mentre dopo si affrettarono a coprire le parti del corpo quelle appunto da cui nascono i figli con le famose foglie di fico lui però sottolinea e qui l'autore dà la sua lettura che questa particolare avvenne perché il piacere che riguarda queste cose è il più acuto di tutti questa precisazione può diciamo così far ipotizzare l'interprete quindi noi che per questo autore il peccato di origine sia consistito nella ricerca del piacere connesso all'unione carnale quindi ricorderemo questa è stata un'ipotesi tenuta per ora soltanto da Zenone questo sarebbe il secondo autore che si accoda non lo dice esplicitamente certamente però non ci si può vergognare per un fatto per un piacere che sappiamo essere onesto ma soltanto per un piacere che si sa essere disonesto e se si risveglia subito dopo la colpa d'origine con questa precisazione quindi il piacere che riguarda queste cose è il più acuto di tutti e arrossiscono per le parti del corpo che servono a generare figli autorizza un'ipotesi niente più che un'ipotesi perché lui non fa un'affermazione esplicita è certo però che può parla anche del pudore dono che Dio ha allargito affinché la relazione coniugale non degradasse ulteriormente quindi a un livello proprio animalesco animalesco ma mantenesse almeno le caratteristiche dell'umano anche nell'ipotesi che tale modalità fosse già stata una decadenza quindi una degradazione di qualche livello dell'uomo dal progetto dei vini originari secondo brano ed ultimo per oggi Adamo conobbe Eva sua moglie che avendo concepito partori il caino se il matrimonio venne dopo il peccato attenzione al ragionamento molto acuto che fa e queste sono persone vissute 1500 anni fa molto molto perigenti se il matrimonio venne dopo il peccato allora questo sarebbe la causa della benedizione per la moltiplicazione degli uomini il matrimonio dunque non esistette in paradiso prima del peccato se infatti sentiamo il richiamo da dove siamo caduti il salvatore dice che non ci sono le nozze nella resurrezione perché là non c'è la morte è quindi evidente che le nozze non poterono esistere all'inizio ma nemmeno il genere umano poteva rimanere fermo a due persone d'altra parte come è stata creata la moltitudine delle schiere celesti allo stesso modo Dio avrebbe condotto alla pienezza il genere umano attenzione a questo particolare allora il ragionamento che lui fa è un ragionamento paladosale dice ammettiamo che l'unione coniugale quando parla di matrimonio di questo parla fosse stata fosse stato l'unico modo che l'umanità abbiamo avuto per la generazione dei figli cosa che lui non crede perché dice ci sarà stato qualche altro sistema però la scrittura ci rivela incontestabilmente che Adamo conobbe Eva che avendo concepito Bartolino dopo il peccato originale quindi che significa questo fatto qui che se questo non è semplicemente una connessione temporale ma è una connessione causale allora dovremmo dire che il peccato sarebbe la causa della benedizione divina per il crescimento del genere romano perché è completamente fuori del mondo insomma perché il peccato non può tirare mai la benedizione di Dio casomai il contrario questo anche per chi con troppa faciloneria fa peccati perché tanto poi c'è la misericordia o pensa che la benedizione di Dio si possa avere offendendolo oggi si dicono tante di quelle stupidaggini in giro cioè domanda io ho sempre fatto questa domanda è una domanda lecita poi uno può rispondere quello che vuole però lo deve argomentare domanda se due ragazzi arrivano al matrimonio vergini tutti e due senza aver conosciuto nessun altro e avendo conservato la verginità del matrimonio domanda io faccio questa domanda non stiamo parlando di validità del matrimonio d'accordo ma la Madonna Fatima disse che ci sono dei matrimoni che non piacciono a Dio e non sono benedetti da Dio io anche qui quando studiando Fatima l'apparizione riconosciuta dalla chiesa quindi la piccola giacinta racconta che la Madonna gli ha detto a voi e ci sono fatto qualche domanda perché il matrimonio non dovrebbe essere benedetti da Dio che è successo perché sono due criminali perché sono due disgraziati allora secondo noi una coppia che arriva al matrimonio è così ed una coppia che arriva che ci hanno avuto dieci rapporti sessuali lui prima dieci lei prima e magari quattro anni di convivenza con tre figli prima domanda perché noi andiamo a porcere queste domande va tutto bene non ci sta nessuna differenza cioè ma divano uno ma divano l'altro Dio è contento sia l'uno che dell'altro se c'è nessuna differenza pensiamo questo in coscienza possiamo dire che pensiamo questo in coscienza io no io non penso questo in coscienza mentirei se dicessi il contrario non è possibile una cosa di questo genere non è che il nostro signore non gradisca un cammino di conversione perché se questi hanno fatto purtroppo per tante situazioni hanno fatto un macello la loro esistenza poi se sono convertiti e scelgo qualcosa in chiesa Dio gli sputa sopra no perché c'è sempre per noi cattolici la possibilità del ritorno e della conversione ma non mi dire che è la stessa cosa è come se tu dicessi che in paradiso stanno allo stesso livello padre Pio è un grande peccatore che si è pentito tre mesi prima di morire ha fatto un tempo a fare la confessione certamente magari a prendere pure l'olio santo e il viatico ma che quello in paradiso sta vicino a padre Pio secondo te ma non è proprio possibile una cosa di questo genere perché noi non possiamo dimenticare che in Dio non c'è soltanto la misericordia c'è la giustizia c'è una coppia di ragazzi per arrivare sicuramente oggi vergine al matrimonio ma devi fare una montagna di sacrifici perché oltre al sacrificio della rinuncia c'ha anche la circostanza aggravante di mezzo mondo che li prende per scemi e che li ride che li ride ve lo dico io perché insomma a parte che ci sono passato quando ero giovane ma cioè ci sono in contatto con chi ci prova e queste arriva la matrimonio cioè non gli arriverà un autotreno di benedizione un autotreno di benedizione e se il Signore accetta comunque le nozze che hanno comunque delle premesse differenti manda su quella nozze le stesse benedizioni che manda su un matrimonio a cui si è arrivato in queste condizioni io qualche dubbio ce l'ho poi io amo non fare come dire proclami o imporre le mie idee sollecito questa questione poi ciascuno la risponde però attenzione quando la rispondiamo dice ah è la stessa cosa vuoi anche pensare che sia la stessa cosa però la devi argomentare sia a te stesso che eventualmente per qualcuno che ti dia mi spieghi perché tu pensi che sia la stessa cosa e non a fare i discorsi sempre ah perché Dio è misericordioso questo è l'argomento dei allora dopo essere ricorso ancora all'argomento di Luca 20-34-36 quindi al fatto che Gesù afferma esplicitamente che in paradiso dopo la risurrezione della carne non ci sono nozze afferma chiaramente primo che è quindi evidente secondo lui è evidente che le nozze non poterono esistere all'inizio e non essendo pensabile però che il genere umano potesse limitarsi risultati con i progenitori cosa dice ma Dio ha creato migliaia di angeli ma che c'è la difficoltà a avere modalità di generazione alternative no e quindi Procopio e qui abbiamo un altro step non molto frequente ma cominciamo a essere un discreto numero ecco perché Sant'Atanasio è stato il primo ma anche San Gregorio di Nisse e San Giovanni Crisossimo o Sant'Atanasio San Gregorio di Nisse e San Giovanni Crisostomo cioè sono tre nomi ma non di primo piano di primissimo piano perché il primo ha fatto il concilio di Nissea il secondo ha fatto il concilio di Costantinopoli praticamente hanno fatto loro eh San Giovanni Crisostomo in Oriente cioè andate a parlare con gli orientali e chiedete chi è San Giovanni Crisostomo si aggiunge Procopio che cosa nel senso di affermare che ipotizzare una misteriosa forma di generazione in assenza del peccato d'origine alla maniera angelica quindi ci lasciamo e penso che darò anche come titolo a questa nostra conversazione di questa sera io cerco sempre di intitolarla quindi non dire semplicemente il peccato la dottrina sul peccato d'origine su esempio di Cesarea perché insomma anche uno che va a vedere il video insomma cerco sempre di dargli un titolo che è però un titolo adatto è proprio una mod un modo differente di generare o qualcosa del genere c'era un modo differente di generare noi siamo venuti al mondo come siamo venuti perché è cambiato qualcosa o è tutto normale ecco la prossima volta concluderemo con un altro gigante te li ripeto Massimo il confessore Costantinopoli siamo sempre un personaggio del calibro di un calibro notevole tanto auguro a tutti un santo 2022 la mia benedizione ci vediamo se Dio vuole alla prossima puntata a presto un santo